Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per la consueta rassegna stampa del mattino, l'appuntamento in diretta con Fano TV che apre la giornata e apre anche lo spazio dell'informazione della nostra emittente, sono le 7.30, un saluto anche a coloro che poi ci seguono nel corso della mattinata e alle 13.30 in replica. Come sempre i giornali sono pronti ma noi procediamo con ordine, santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Vediamo, oggi è sabato 14 maggio, San Matti a posto, il sole è sorto alle 5.42 e tramonterà alle 20.26. Ed ora con l'ausilio della webcam guardiamo un po' che tempo fa fuori, facciamo una sbirciatina, una puntatina, ecco questa è la prospettiva che si vede, naturalmente quello che vedete laggiù in fondo è il pincio e le nuvole all'orizzonte non fanno presagire nulla di buono. E allora vediamo quali sono le previsioni per oggi e domani secondo la protezione civile delle Marche, vedete oggi la simbologia è molto eloquente sulla nostra provincia, cielo nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti più intensi, precipitazioni brevi e locali più vaschi saranno possibili nelle ore centrali della giornata però principalmente sugli rilievi appennini. Ci vediamo per domani, domenica, qui la situazione si aggrava un po', se è possibile copertura irregolare in mattinata con alternanza di locali schiarite però addensamenti cumuliformi più intensi però nella seconda parte della giornata con precipitazioni a carattere di rovescio, temporali sparsi e insomma anche il settore centro-settentrionale mentre nel pomeriggio tenderanno ad interessare il settore meridionale. Intense e abbondanti anche le precipitazioni, vedete anche la simbologia sul creare penino, sui rilievi anche dei temporali e quindi insomma questo è il weekend. Si affaccia il primo giorno della settimana, naturalmente riarriva il sole, poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne, precipitazioni solo, vedete, sui rilievi e nel settore settentrionale. Insomma è così. Il lunedì compare il sole e il weekend non è poi tanto eclatante. Va bene, archiviata la pagina del tempo, guardiamo che cosa ci propongono i quotidiani questa mattina in edicola. Partiamo dal Corriere Adriatico per quanto riguarda Fano. Sono diverse le tematiche presenti nei quotidiani quest'oggi, una di queste è l'ospedale, il corteo, il sit-in che si terrà a forso sei ore, domani, nella giornata di domani a partire dalle ore 11, se ne è parlato a Tre Ponti, in una follata assemblea, non solo ospedale, divampa anche la protesta per altre argomentazioni, assemblea con i 13 comitati che chiedono di bloccare il piano sanitario. Ecco la strategia di battaglia, appunto la manifestazione che si terrà nella giornata di domani a forso sei ore, a metà strada appunto tra Fano e Pesaro, le associazioni si danno appuntamento. E poi in testa di pagina, palestra della trave, il sindaco presenta il progetto con un sopraluogo, non soltanto la palestra della trave, 55 mila euro investiti, ma anche lavori a Cucurano, una palestra di Cucurano per le dotazioni di sicurezza, maniglioni antipanico nelle uscite e anche allo stadio Mancini. L'altra pagina di Fano parla della pista ciclabile tra appunto Fano e Fenile e il blocco di questa opera per un ricorso alla Tar firmato dal conte Castracane che vede l'opposizione dell'intero quartiere di Fenile. Fanesi assicura presto ci sarà una soluzione a riguardo. Andiamo nella pagina di Senigallia del Corriere Adriatico, si avvicinano i weekend estivi e primaverili densi di iniziative e quindi traffico e weekend da Bollino Rosso per le tante iniziative tra oggi e domani che sono destinate a rivoluzionare la viabilità e la sosta della città di Senigallia. Addobbo floreale poi anche per quelli che frequenteranno il centro storico di Senigallia perché c'è Senigallia in fiore e quindi mostra mercato di piante e fiori. Per quanto riguarda la viabilità nell'occhiello qui dell'articolo vengono citati stop di 4 ore per bici in città, divieto di transito a Montignano, mercatino in piazza Ferrer appunto. Però nell'articolo sono presenti tutte le variazioni che saranno in vigore in questo fine settimana. E poi andiamo con un'altra pagina che riguarda Senigallia, è un fatto di cronaca. Fumano spinelli prima della scuola, studenti notati da alcuni residenti che hanno chiamato la polizia, controlli al campus. I consumatori sono sedicenni, sono dell'entroterra, individuati anche i pusher, uno è di Falconara e l'altro è di Iesi. Questa è la droga che circola all'ingresso delle scuole purtroppo è un problema, è stato un problema anche a Pesaro con controlli con cani antidroga, insomma alta l'attenzione su questo fronte. Andiamo nella pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, si parla di San Domenico, una struttura che delle noci presenta come la futura Italy Pesarese, il sindaco rilancia intanto Rossini, Pop e Motori. Questa è un'altra cosa che rivedremo, andiamo nel pagina del messaggero, ecco lo apriamo subito, il messaggero di Pesaro dove anche qui in testa di pagina c'è la mobilitazione per l'ospedale, appello alla partecipazione, insomma alla vigilia della manifestazione di domani a Fosso Signore e porteremo la protesta in regione. Da Pesaro arrivano frecciatine a Fano, dicendo appunto dibattito assurdo. E poi fotonotizia riguarda questa attrice famosissima italiana Cristiana Capotondi che sarà la protagonista della fiction su Lucia Annibali e quindi il volto dell'avvocatessa sfigurata con l'acido sarà il suo. E poi di spalla il Conservatorio fa un open day dedicato a Rossini, al genio musicale appunto pesarese e quindi sarà una giornata di concerti fino a sera e chiusura al Pedrotti con la finarmonica marchigiana. Ancora nelle pagine del messaggero si parla di un altro omicidio efferato che è quello di Lucia Bellucci, a sentenza anche la Corte d'Appello che ha condannato a 30 anni Ciccolini. Lucia è stata ingannata e assassinata. Queste alcune note a riguardo le motivazioni della sentenza d'Appello. Per l'avvocato Ruggeri, parte civile dell'ex marito, si conferma in pieno tutto quello che era già stato argomentato in primo piano. L'altra pagina che vi faccio vedere del messaggero è quella di Fano e anche qui mobilitazione da Fano alla Regione, quindi alla vigilia del presidio di domani a Fosso 6 ore si lancia l'appello per una mobilitazione e vi dicevamo appunto da Pesaro non mancano le frecciatine e segnali e il sindaco Ricci dice un dibattito preoccupante e assurdo deve prevalere dove, chiedo scusa, dove prevale il campanilismo. Queste le parole del sindaco Ricci affollata all'assemblea, alla cooperativa Tre Ponti sull'ospedale. Allora sull'ospedale vogliamo coinvolgere talmente tanta gente da poter bloccare anche Ancona. Queste le idee degli organizzatori e quindi anche qui l'assemblea del fenile sulla pista ciclabile che è una priorità assoluta. Entro l'anno, entro l'anno finita, ci mettiamo la faccia, queste sono le parole del sindaco, ma prima c'è un contenzioso da risolvere. Con Planare sotto casa, Seri e Fanesi provano a metterci una pezza e questa notizia è riportata anche nelle pagine del resto del Carlino, ve la faccio vedere subito perché appunto i lavori, la protesta riscalda ora Don Marco che è pronto a chiamare anche striscia la notizia. A 14 le opere accessorie, Seri dice però che ascolterà i cittadini. Rimaniamo nel resto del Carlino di Fano dove nella giornata di domani appunto oltre al presidio su Fosso Seggiore, ci sono altri appuntamenti importanti che riguardano il nostro territorio, un altro è il voto per la presidenza della carnevalesca e insomma prima del voto Luciano Cecchini, il presidente, traccia un bilancio di questo suo dopomandato, così è cresciuto il carnevale, un orgoglio essere riusciti a portare la festa nei cuori dei Fanesi. Qui vedete una foto di un esultante Luciano Cecchini e un carro anche storico, quello che raffigurava Valentino Rossi. Giorni di fuoco appunto domani, le elezioni per il nuovo direttivo, il patron si ricandida, Cecchini si ricandida alla presidenza. L'altra pagina di Fano, lavori allo stadio Mancini, questi sono stati dettati da un'assegnalazione della questura dopo che ci sono stati appunto gli disordini con la San Benedettese, sono stati previsti dei lavori e intanto domani il programma, il derby con la Fermana, un'entrata uscita, un'entrata uscita dedicata ai tifosi della squadra ospite che verrà realizzata proprio nel settore ospiti di fronte agli spogliatoi. Questi sono i lavori che riguardano stadio Mancini, andiamo a Pesaro con il resto del Carlino, in fotonotizia centrale c'è il sindaco operaio Ricci appunto che vedete visitare i cantieri sparsi nella città e poi si parla anche in testa di pagina di Banca Marche che appollo e i suoi fratelli perché sono arrivati offerte solo da fondi statunitensi per gli istituti salvati ma Goffi getta acqua sul fuoco, non c'è per ora nessun istituto bancario italiano all'interno dell'articolo che riguarda questo aspetto della vicenda Barca Marche e poi domani affosso sei ore la marcia anti ospedale, questa marcia ha un cuore tutto fanese come abbiamo visto nell'altra testata. Eccola qua, l'articolo di Ricci che è sempre accusato di forte presenzialismo in televisione ma lui ribadisce che questa è una strategia ben precisa per portare la città all'attenzione dei media e quindi di tutto il tessuto nazionale TV e tanti cantieri, questa è la rivoluzione di Ricci, far conoscere dove siamo, questa è la sua strategia chi non comunica non esiste, alla fine del mandato voglio ridurre al minimo chi pone la domanda Pesaro? Ma dove sarebbe Pesaro? Ecco questo è un interrogativo che lui non vuole più sentire e investimenti per 35 milioni è il contributo che possiamo dare all'economia in crisi, asfaltature, recupero edifici storici, arredo e uno stimolo al settore turistico. Questa è la strategia del primo cittadino di Pesaro, vi lascio con l'ultima pagina che riguarda appunto la città di Pesaro e il centro dell'impiego è al collasso, un grido d'allarme, chiediamo al prefetto di intervenire i sindacati richiamati alla responsabilità regione e provincia, personale e imbufalito perché da settimane senza polizia e polizia e le società esterne che sospendono i lavori naturalmente creano una difficoltà a chi vi lavora al suo interno. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo dal resto del carino, grazie per essere stati con noi, occhio ai giornali, torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente, per adesso buon weekend, buon sabato, tempo permettendo e anche buona domenica a tutti voi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS